Queste mani una volta servivano per combattere. Ora sono umili strumenti di pace. Devo capire chi sono veramente. Voglio scegliere la mia strada, vivere l'attimo. La vita da supereroe è finita. Ricorda cosa ho detto. Quando ti senti perso, basta guardare negli occhi le persone che ami. Non me. Cosa? Ti ascoltavo. Cosa?